i bonus edili nascono nel 2007 quando il movimento 5 stelle ancora non esisteva e ottengono subito un grandissimo successo certificato dal fatto che ogni anno successivo la misura viene a grandissima richiesta prorogata per i 12 anni successivi i bonus edili vengono chiamati misure win win dall'inglese vinci vinci perché hanno fatto vincere le famiglie che acquistavano di più grazie alla distrazione fiscale le aziende che vendevano di più e vendendo di più ci pagavano sopra più tasse senza poter fare il nero e quindi vinceva anche lo stato che alla fine dei conti incassava più tasse non meno cosa certificata ogni anno dai rapporti ufficiali degli enti pubblici di controllo ed infatti tutti i partiti politici negli anni passati hanno sempre chiesto un rafforzamento dei bonus come dico dimostra incontrovertibilmente la mozione approvata all'unanimità nel 2015 e poi sempre all'unanimità nel 2019 tutti i partiti concordano nell'ordinare al governo ricordiamoci che il parlamento che ordina il governo non viceversa di trasformare la detrazione in un credito e di superare il meccanismo del vincolo dell'esatta corrispondenza tra l'importo dello sconto di fattura e l'importo della detrazione fiscale cioè poter concedere una detrazione superiore al cento per cento quindi una misura che al 65 per cento aveva fatto contenta tutta la politica per 13 anni diventa improvvisamente nefasta quando i 5 stelle la portano a 110 con l'approvazione però come abbiamo visto di tutti i partiti nel mio libro ho reso conto totalmente gratuito tutti i dettagli con i documenti ufficiali che vi ho mostrato adesso nero su bianco e dimostrano l'enorme volta faccia di tanti politici e tanti partiti che siedono in parlamento rinnegando quanto essi stessi hanno votato solo pochi anni prima 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 prima